Deficienti, stupidi, incapaci, possibile che non ne facciate mai una giusta? A quanto vedo, il tuo curriculum di criminale è patetico! Uca, uca, non è colpa nostra! È tutta colpa di quel disgraziato di Bandicoot! Non permetterò a nessuno di ostacolare il cammino del male! E meno che mai a uno stupido marsupiale arancione! Crash deve essere eliminato! Uca, uca, è spiacente di ricordartelo, ma Crash trova sempre il modo per sconfiggerci! Forse è davvero troppo in gamba per noi! Basta con le scuse! Voi cinque idioti farete meglio ad escogitare un buon piano! Altrimenti... Perché mi caccio sempre in queste situazioni? Può essere qualcosa che possiamo fare! Di un po', dottore! Sbaglio o stavi trafficando con una nuova arma segreta nel tuo laboratorio? Non so di cosa parli, enetrofi! Dottor Cortex, penso che si riferisca all'arma super segreta alla quale hai lavorato giorno e notte da quando Crash ti ha sponfitto! L'arma che dice... Basta con queste discussioni! Abbiamo un piano! Grazie ai miei sforzi sono riuscito a creare una super arma geneticamente avanzata di incredibile potenza! Ma mi manca un elemento essenziale! Una ponte di energia! Mmm... Elemento! Elementi! Sì, sì! Gli elementali! Giusto! Gli elementali! Proprio quello che ci vuole! Scatenando la loro energia di strutturice si creerebbe sufficiente energia per alimentare la mia arma segreta! Avremo un'arma in grado di distruggere montagne e demolire intercità! E cancellare per sempre Crash Bandicoot dalla faccia della terra! Preparati ad affrontare la mia ira! Crash Bandicoot! Vai! Crash! Sì, Crash! Stai andando alla grande! Cosa succede? No! Non può essere! essere. Oh no! Cosa sta succedendo? Oh no! Crash, sta attento! State tutti bene? A quanto pare il mio malvagio gemello Uka Uka si è rimesso a combinare guai. Devo scoprire cosa sta progettando. Ci vediamo più tardi. Ah, salve mio fragile fratellino. Sei riuscito a catturare la mia attenzione Uka Uka? Che razza di piano diabolico state architettando tu e il dottor Cortex questa volta? Nessun piano, è solo una piccola riunione tra vecchi amici. No, gli elementali no! Perché li hai liberati Uka Uka? Non ti ricordi cosa è successo l'ultima volta? Quei squiglie, qualche terremoto, un po' di inondazioni, qualche piccola graziosa era glaciale un paio di secoli fa. Ti preoccupi troppo fratellino. Non sei in grado di controllarli Uka Uka. Sono troppo pericolosi. Potrebbe significare la rovina per noi tutti. Al contrario, Aku Aku. Questa sarà la rovina per te, quel prezioso pianetucolo che ti sta tanto a cuore. Distruggilo! Non la farai franca. Ah 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 ah! Chi ci fermerà? Crash, Coco, è proprio come temevo. Per il dottor Cortex hanno liberato un gruppo di maschere chiamate elementali, dotate di un tremendo potere di distruzione. Dobbiamo fermarli prima che distruggano la terra e tutti i suoi abitanti. L'unico modo per porre freno alla furia devastatrice degli elementali è imprigionarli utilizzando gli antichi cristalli. Servono cinque cristalli per ibernare ciascun elementale. Dobbiamo sbrigarci. Coco, a che punto è il tuo nuovo portale di teletrasporto? È quasi finito. Qualche piccolo ritocco qua e là e saremo pronti a partire. Ben fatto, Coco. Questa è l'occasione ideale per vedere se funziona. Dobbiamo sbrigarci. Ok, tutti i sistemi sono pronti e operativi. È arrivato il momento di pareggiare i conti. Dobbiamo sbrigare i conti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.